A Rio Vivo ci sentiamo cittadini di serie B, è il jacuzzi di un operatore turistico di Termoli che lamenta la scarsa attenzione dell'attuale amministrazione civica avverso le problematiche di quell'area della città. La critica del gestore di uno degli stabilimenti balneari storici della città parte dai parcheggi a pagamento, la cui durata giornaliera è stata recentemente stesa, una misura che secondo lo stesso imprenditore penalizza i turisti, certo, ma anche gli operatori del settore per poi allargarsi ad una critica più complessiva sulla gestione delle aree periferiche della città da parte dell'amministrazione Sbrocca. Ripercussioni non particolarmente gravi, però fa notare che il volere dell'amministrazione è quello di non garantire ai turisti la massima ospitalità. Le considerazioni ovviamente sono negative, nel senso che ci sentiamo, un popolo di serie B e invece Termoli merita di essere trattata alla stessa maniera a nord, sud e soprattutto anche nei quartieri periferici. Ritengo che questa amministrazione abbia commesso tantissimi errori e spero che le prossime amministrazioni future possano garantire ai cittadini termolesi, agli imprenditori e soprattutto ai turisti maggiore attenzione soprattutto alle esigenze primarie che possono essere l'ambiente, possono essere le infrastrutture, tutto ciò che riguarda il benessere della persona e della città in generale.